Ci ritroviamo dunque insieme per celebrare un altro anniversario importante. Oggi è la giornata mondiale degli anniversari, Maria Pia. Sì, però prima ancora io lo so che noi stiamo proprio da stamattina a fremere per parlare di Massimo Troisi. Lo facciamo perché le sue battute sono immortali anche quando gli anniversari non ci sono, ma invece mi corre l'obbligo anche di darvi alcuni aggiornamenti e questo è rilevante perché riguarda le elezioni europee dal punto di vista di un'importante figura vaticana. Il cardinale Michael Zerni, che è il prefetto del di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale, a margine della presentazione del messaggio per la giornata dei migranti e rifugiati, di cui vi parlerò più tardi, ha anche accennato all'appuntamento degli europei con le urne. Sarebbe utile ricordare le proprie origini migratorie. Così ha detto appunto in sala stampa, è un peccato che dopo una o due generazioni si diventichino le radici. Gli europei possono sviluppare una politica migratoria che rifletta valori, speranze e grandezza del continente Europa. Spesso ha denunciato il cardinale e la propaganda o l'ideologia danno l'impressione che il migrante o il rifugiato fuggano per il piacere di farlo. Questo è falso. Bisogna insistere e invece riconoscere che sono fratelli e sorelle. Quindi, caro Toni, questo era l'aggiornamento più importante. Adesso ritorniamo, come abbiamo detto, e abbiamo già salutato fuori onda il nostro caro amico Armando Lostaglio, che è critico cinematografico. Ciao Armando. Buongiorno Armando. Ciao, buongiorno dalla Basilicata. E dunque oggi ricordiamo un addio davvero precoce perché aveva soltanto poco più di 40 anni Massimo Troisi quando morì 30 anni fa. Ovviamente ci sarà un profluvio di occasioni per tutti voi di vedere i suoi film, ma noi ci vogliamo concentrare, grazie anche a un'intervista di cui vi parlo tra un attimo, sugli inizi di questo grande artista, grande personaggio che tra l'altro non ha cambiato nome, vi faccio notare, il che non è così scontato nel mondo appunto dell'arte e del cinema. Perché ci concentriamo sugli inizi? Perché, caro Toni, quando ancora tu non avevi arricchito la nostra redazione, ci è capitato di produrre una serie di interviste che si chiama Frate Asino, che ogni tanto potete vedere anche su Padre Pio sul nostro canale YouTube, ma ogni tanto è andata anche in replica, per esempio quando è morto il compianto dottor Pretto. Ecco, e incontrando un padre camigliano, padre Rosario Messina, che ci ha parlato di cosa significa stare accanto ai malati contagiosi di TBC, come lui ha fatto per decenni, parlando, parlando, è venuto fuori che anche Massimo Troisi ha avuto a che fare con i camigliani. E quindi sentite che bella testimonianza. A proposito di malati, però uno speciale ne avete conosciuto proprio a San Giorgio a Cremano, il suo paese natio, Massimo Troisi, che è morto a 40 anni, poco più, perché aveva un vizio cardiaco. Era molto amico dei camigliani, di noi, di me, soprattutto anche di un napoletano, padre Busiello, veniva volentieri e faceva molti teatri, lui era attore, gli piaceva teatri comici in dialetto napoletano. Noi avevamo una bella sala. Per ridere ci vuole una grande intelligenza e sicuramente Troisi ce l'aveva. Per ridere facendo il serio, lui parlava così serenamente e seriamente, che per lui era un modo, per noi faceva ridere, ma lui invece era il suo stile. L'abbiamo avuto proprio di casa, poi è diventato famoso anche, quindi si assentava per film, per cose, ma il teatro spicciolo lo faceva nella sua città e l'unico posto era venire da noi. Ecco qua dunque questo bel ricordo. Noi non abbiamo avuto il privilegio di conoscere Massimo Troisi di persona, però Armando è come se tutti gli italiani lo conoscessero benissimo, vero? Sì, è vero Maria Pia, perché almeno per la mia generazione ha rappresentato un grande punto di conoscenza della napoletanità vista in maniera in chiave un po' diversa, con una autoironia spesso malinconica. Ecco, è la città che ha formato decine di artisti, centinaia di artisti, la città di Napoli e quindi tutto l'Interland. I nomi più eclatanti sono i fratelli di Filippo, certamente, Totò ovviamente, e molti altri, penso Nino Taranto per la commedia. Però ecco, la smorfia da cui nasce appunto Massimo Troisi è un prodotto televisivo boduto da Enzo Trapani che in quegli anni, negli anni appunto fine anni settanta, rivoluzionò il linguaggio televisivo creando quel programma mirabile che era non stop, irripetibile o anzi ripetuto più volte in altre replicato successivamente nei decenni dopo. E lì Troisi dai meglio di sé, nel senso che con altri appunto Verdone, nascevano in quegli anni i gatti di Vicolo Miracoli eccetera e rivoluziona la maniera di fare teatro e cabaret, quindi spesso anche toccando temi sacri ma mai sfiorando la blasfemia. Ecco, è stato sempre molto accettato, molto ben visto in questo senso, proprio perché riduceva alla maniera popolare anche la religiosità che a Napoli, Napoli ne è capitale, Napoli è intrisa di questa grande religiosità, appunto parliamo sempre di San Gennaro ma anche San Ciro, la Madonna dell'Arco, insomma tutte figure sacre a cui i napoletani sono legatissimi e Massimo reinventava una sorta di linguaggio di autoironia nel senso della professione di fede in questo senso e poi il cinema, insomma i poco più di dieci film, ha raccontato moltissimo e quindi ha dato molto della sua napoletanità della sua autoironia in questo cinema e va ricordato, forse fra i film più belli, quello insieme a Marcello Mastroianni che ora è di Ettore Scola. Ieri abbiamo celebrato alla Casa del Cinema di Roma i cento anni della nascita di Marcello Mastroianni Ah sì, un'altra figura eccezionale del nostro cinema, del nostro immaginario, ma poiché tu avevi nominato la smorfia noi abbiamo anche ancora qualche attimo e qualche fotografia da vedere, proprio degli inizi e infatti eccoli qua, Pippo Baudo ovviamente, come sempre si può dire che ha lanciato tutta una serie poi di personaggi tra i quali fuori classe. Secondo te, ecco vediamo Enzo De Caro e naturalmente Lello Arena che quando parlano di Troisi ancora veramente si commuovono. Io anche di recente sono andata a scoprire insomma queste preziose testimonianze umane prima di tutto, prima che artistiche, per non parlare proprio delle tante persone, anche le tante donne che hanno amato Massimo Troisi a vario titolo. Secondo te si può parlare di genio e perché? Si può parlare sicuramente di genio. Dicevo prima, ha rivoluzionato il linguaggio del cabaret e quindi traslato in televisione e a sua volta poi riportato sul grande schermo. E' un genio perché, come diceva la testimonianza di prima, con il padre con cui hai fatto l'intervista Padre Rosario Messina, che saluto. Sì, per lui era spontaneo, veniva tutto in maniera spontanea. Come sono spontanei e sanguigni i napoletani. Cioè Napoli, le vie di Napoli, andare per le vie di Napoli è come andare in un teatro a cielo aperto. Ovunque si sentono battute. Penso alle battute, per esempio, alla vincita dello scudetto che è l'ossicione davanti al cimitero o agliù che vi siete persi. Cioè, voglio dire, nasce proprio, è intriso questo spirito, senso di napoletanità che è ormai noto nel mondo ed è esportato nel mondo. E Troisi l'ha incarnato in una maniera nuova, diversa, alternativa, in una maniera, dicevo prima, autoironica, ma del tutto malinconica. La malinconia nei suoi occhi, che appunto riflettevano la malattia che lo stava affliggendo, la stessa che poi coinvolse anche il suo amico fraterno Pino Daniele. Quindi questo connubio straordinario, questa città che ha dato i Natali a grandissimi personaggi della musica, della cultura, appunto, del teatro e del cinema. Quindi in massimo si può assolutamente leggere la genialità innovativa. Grazie, grazie Armando. Hai reso davvero onore, il giusto onore, il giusto tributo ad un artista del calibro di Massimo Troisi e anche a quelli che lo hanno circondato. Noi purtroppo non abbiamo altro tempo, ma spero di ritrovarti anche in futuro con Maria Pia per parlare di altri attori, altri film che magari appunto hanno impreziosito le nostre esistenze. Giustamente mi ha appena ricordato Armando del Centenario di Marcello Mastroianni e siccome a breve avrete tutti l'occasione anche di vedere un bel film in cui è sua figlia Chiara, figlia di Mastroianni e di Catherine Deneuve, va a interpretarlo anche a un travestì, appunto, con il volto, somiglia tantissimo. Magari Armando, quando l'ho avrò visto, parleremo anche di Mastroianni. Sempre che il nostro comandante, Tony Augello, me lo permetta. Certo, assolutamente sì, Armando, per cui... Vi voglio vederlo, assolutamente. L'ho visto, è un bellissimo film. Va visto anche in omaggio a questo grande, centenari per centenari, mi piace farvi vedere questa foto insieme a un altro centenario, che è Walter Chiari. Persona meravigliosa. Quindi, grandi personaggi. Questa, la nostra cultura cinematografica televisiva, di grande televisione e di teatro ha avuto. Quindi, questa foto, mi piace, è l'embrema del nostro CINIT quest'anno, dell'abbonamento CINIT Cineforum Italiano che creiamo. Quindi, due centenari illustri. Quindi, viva Marcello, viva Massimo e viva anche Walter Chiari. Grazie. Bene, grazie, grazie Armando e viva anche Armando. Ci ritroviamo prestissimo. Grazie, presto. Grazie per aver condiviso del tempo con noi. Grazie, un saluto ai vostri telescettatori. Buon lavoro. Grazie. Linea alla regia e poi parte finale di Just Today.